Macaroni, no, chagaroni, chagaroni Sono la chitarra da quando ho dieci anni E mi piace veramente tanto È una cosa che mi dà soddisfazione Quando siete oggi di morale, ragazzi, io vi consiglio Fatevi un panino, fatevi un qualcosa che è un prosciutto crudo E suonate Perché suonare vi rende il cuore felice Non so cosa dire Bene, quindi... Io non ho la più palida idea perché gli americani facciano bandiere così enormi Però vabbè Allora, praticamente, oggi questo nuovo video c'è a Lorenzo Volevo un pochino parlare di quel bellissimo pomeriggio che ho passato con la mia famiglia ospitante A giocare a minigolf E dopo con le go-kart O con, tipo, a giocare a videogiochi Insomma, è stata una bellissima giornata E io, da quello che ho capito, a minigolf faccio proprio schifo Perché facevo di quelle proprio... Ci mettevo a volte sei tentativi per far entrare la palla nella buca E non pensate male Beh, vabbè Diciamo che mi hanno stracciato tutti Mi hanno stracciato tutti Insomma, vabbè, lasciamo stare la grammatica che qua... Che vergogna Vabbè Quindi è stata, diciamo, abbastanza strana come situazione Perché dagli americani qua non è che fanno tante attività all'aria aperta Anche se sembra nei film che fanno tanti barbecue Sì, alla fine fanno solo barbecue Ma non è che vanno tanto fuori Preferiscono stare in casa Con il computer La Playstation Guardate qua, il Flawless Mi pare sia questo il Flawless Flawless Perfetto Vuol dire impeccabile in italiano Scusatemi venire a pari ma... Beh, vabbè Ehm... Come vedete mi stanno stracciando tutti Ma perché io mi perdo negli argomenti Mi perdo negli discorsi Ehm... Con questa mano, tipo, sto facendo un selfie Metti che selfie? Vabbè, non importa Ehm... Diciamo che gli americani non è che vanno tanto in giro E quando ci vanno prendono sempre la macchina E tutte queste cose qua Quindi non c'è come tanta libertà Come vedete qua è a fianco all'autostrada questo minigolf Quindi non è neanche da dire che è bello In mezzo alle montagnette Con gli uccellini Tutto tranquillo No, in mezzo all'autostrada Ehm... E quindi tranquilli Però almeno la... Il contesto era decente Perché ti avevano fatto tutti questi bei castelli Tipo delle principesse Sembrava una cosa abbastanza carina Però poi faceva abbastanza schifo Per le persone che c'era Beh, vabbè, insomma E poi io non so se faccio sentire l'audio Nel clip di sottofondo Ma la musichetta era una cosa assurda Cioè, ma dava di un fastidio Che non avete neanche idea Ma era tipo una cosa Tin 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 Tipo 20 minuti di fila Ma che schifo Beh, vabbè Bando le ciance Nel prossimo clip vedrete Vedrete un pochino io che gioco con le go-kart E quindi ci vediamo In qualche modo Spero voi mi sentiate Siamo arrivati qua e E speriamo di farcela In modo sereno e tranquillo Adesso dovrò battere il mio fratello spugnante Vedremo un po' Tutti a posto Ci vediamo dopo Io non riesco a capire Molte di voi Mi avete scritto su facebook Su twitter Su myspace Su tutti i social network Che non vedete le notifiche di youtube Quando carico i video Allora ve lo dico qua Io carico il video Il lunedì alle vostre due E il giovedì alle vostre due Questo ci provo io Mi prendo questo impegno E provo a farcela Però quindi se vedete Mettetevi la sveglia a sto punto Se non vedete perché gente mi dice Io voglio vedere i tuoi video Voglio vederli Scusa se non ti arriva la notifica Non è colpa mia Ti vedo un messaggio Ecco grazie Vabbè tranquillo In ogni caso Se non volete Se non volete perdere tempo Potete vedere tutti i miei aggiornamenti Schiacciate Instagram Il mio Instagram Mi chiamo Lorenzo Films Lorenzo Films Non due volte Una volta Però vabbè insomma Avete capito E quindi mi aggiungete lì Poi mi potete aggiungere anche su twitter E mi potete aggiungere anche su google plus Ma non penso che qualcuno lo usi di questi tempi Non lo so in Italia E anzi Snapchat Potete aggiungermi tutti in Snapchat Se volete Scaricatevi Snapchat Perché è l'applicazione migliore al mondo Vedete al posto Praticamente è un sistema messaggistico Che funziona con foto e video Non solo con i messaggi Quindi una figata Quindi detto questo Ci vediamo in un prossimo video Grazie Se state qua con me Ancora una volta ragazzi Commentate Mettete mi piace E ci vediamo la prossima volta Grazie a tutti Grazie a tutti